Eccomi, 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 buonasera amici e amiche rossoneri e vai ragazzuoli e ragazzuole buona serata di questo bellissimo finalmente dopo la vittoria contro la Fiorentina lunedì 27 novembre 2023 ore 18 e 58 ore 6 e 58 di sera presto che tardi siamo vicini a meno di un mese dal Natale. Allora ragazzuoli e ragazzuole belli lo sapete tutti la Serie A scusate non si ferma né a Natale nell'ultimo dell'anno né niente, vi mando un abbraccio a tutti, partiamo a Razzo, la copertina è dedicata semplicemente a un evento grandioso, un evento importantissimo che c'è domani sera in diretta da San Siro alle ore 21 e che evento è Milan-Borussia-Dormund. Come avete letto nel titolo il Milan si gioca un pezzo di stagione e ragazzi questa è la verità, non è per mettervi strizzetta però, un po' di strizzetta c'è, un po' di strizzetta sì certo che c'è. Allora partiamo veramente a Razzo adesso, allora questo è un video breve ma comunque che vi vuole dire una cosa, domani dobbiamo veramente portare fortuna a tutti quanti concentrarci, sintonizzare la telepatia dei nostri cervelli che esiste, l'elettricità che noi sviluppiamo con i nostri cervelli esiste e come se esiste noi sono convintissimo, per portare bene ai nostri ragazzi, per portare bene al nostro Milan perché dobbiamo possibilmente sconfiggere Borussia-Dormund. Allora la questione è questa, lo sapete tutti, ormai oggi è su tutti i siti online di calcio che Ciuqueze parte titolare, Ciuqueze l'abbiamo pagato praticamente, ve lo voglio ricordare, una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro, sarebbero 20 più bonus che più tutto il resto, praticamente sono 28 milioni di euro di cartellino di Ciuqueze e qualcosa, parliamoci molto chiaro, per cui il ragazzo non è che ci è costato poco, io ho un'enorme fiducia verso Samu e Ciuqueze, però il problema è Samu veramente tu ti devi, allora stai entrando, nella partita contro la Fiorentina si è visto dei lampidi vero Ciuqueze, però tu devi veramente osservare i tuoi compagni come giocano, avere attenzione e non eccessiva fretta, questo è il consiglio che io ti do, se qualcuno del tuo entourage riesce a vedere questo video, o se lo vedi anche tu, perché nel senso mi farebbe un enorme piacere. Allora vi voglio ricordare che se domani il Borussia Dortmund vince, si qualifica direttamente agli ottavi di Champions League e il Milan deve sperare che il Paris Saint-Germain non vinca contro il Newcastle. Allora, se invece noi domani vinciamo praticamente, abbiamo una posizione di vantaggio nei confronti del Newcastle per la qualificazione agli ottavi e vale 10 milioni di euro. Perché vi voglio ricordare che noi abbiamo vinto adesso contro il Paris Saint-Germain, però noi abbiamo pareggiato contro Borussia Dortmund e il Newcastle. Il concetto è che ci mette proprio in quella posizione molto delicata che può voler dire tutto o niente. Allora, domani vincere per noi sarebbe veramente fondamentale, non solo per guardare verso gli ottavi, cioè andare contro il Newcastle e dire bene, noi siamo qui da voi in Inghilterra e adesso vi facciamo un mazzo così perché noi vogliamo passare. Per cui posizione di predominanza se dovessimo vincere contro il Borussia, ma anche per una questione di soldini. Perché noi fino adesso qualcosa abbiamo regranellato, abbiamo preso praticamente per la partita che abbiamo vinto contro il Paris Saint-Germain, i pareggi in più di 5 milioni di euro, sono 5 milioni di euro qualcosa. Se noi però passiamo il turno per gli ottavi praticamente andiamo a vincere oltre, a portare a casa scusate, oltre 20 milioni di euro. E fate il conto che in totale dalla Champions League ci è fruttata, oltre alla qualificazione e tutto il resto dello scorso campionato, di essere entrati in Champions e tutto, una cifra che supera abbondantemente i 60 milioni di euro. Non so se ci siamo capiti qui, in realtà sono circa 70 milioni di euro. Non so se abbiamo capito bene la cosa come gira. Praticamente vuol dire andare gli ottavi, vuol dire pagarsi il cartellino e ciocquezza. Quello che oggi è stato analizzato a livello giornalistico sportivo è vero. Però vi do anche una notizia molto bella. E attenzione, quando gli analyst, quelli delle società bet, che ve lo ricordo sono tutti con la sede a Londra, in Inghilterra dove c'è la capitale del bet, cioè della scommessa a livello sportivo, quando loro parlano, attenzione, vuol dire che qualcosa ci azzeccano. Il vostro Alex, voi lo sapete, a proposito, prima di continuare il video voglio fare un applauso a Sinner, alla nostra nazionale italiana di tennis, che ha portato a casa la Coppa Davis dopo 47 anni. Vecchia come me questa cosa. Dopo 47 anni ha portato a casa la nostra nazionale di tennis italiana, la Coppa Davis. Un ospedale sinner è troppo forte, ragazzi. Numero 4 del mondo, ma ha ragione Diokovic che piano piano arriva a essere il numero 1 del mondo. Parliamoci chiaro. Ex talento dello sci, quando era piccino, adesso a diventare, poi ha cambiato sport, per fortuna, a diventare un grandissimo tennista, no che tifoso, grande tifoso milanista. E adesso parliamo poi dopo sul finale anche di questo. Però il discorso è questo. Vi ho detto, vi ho fatto una, diciamo, una previsione contro la Fiorentina, insomma, della serie Speriamo in bene che gli Astri e tutto quanto ci aiutino contro la Fiorentina, perché speriamo, insomma, che vada tutto bene di qua, di su, di giù, d'essere sinistra, ed è andata bene, anche se è stata una brutta partita, ma soprattutto l'ultima previsione che vi ho fatto, praticamente, nel video reaction dopo la partita con la Fiorentina, qual è stata? Il risultato ideale del derby d'Italia, Juventus-Inter, è il pareggio. Il vostro Alex è sentenza. L'ho messo anche in colloquio. Uno spettacolo. Questo per dirvi. Comunque, allora, una cosa, un risultato, l'ho seguito perché lo hanno detto le società bette di scommesse sportive, legali, quelle che hanno sede a Londra, che lì la capitale di tutto. Lo ripeto, scusate se sono noioso, perché bisogna capirla questa cosa. Ed è stato il risultato in cui ero abbastanza fiducioso sul discorso contro la Fiorentina. Sul discorso, invece, del derby d'Italia sono andato a intuito. Però, anche qui, contro il Borussia Dortmund, praticamente, le società bette dicono che il Milan è favorito a vincere contro il Borussia Dortmund a San Siro. Praticamente, voglio mandare un abbraccio a tutti i tifosi che domani saranno a San Siro a vedere questa magnifica partita. Noi siamo favoriti con una quota a 2.04. Per il segno X, cioè il pareggio e il 2, cioè la vittoria del Borussia Dortmund, sono a 3.65. Per cui c'è una buona percentuale delle società bette a favore nostro di vittoria contro il Borussia Dortmund. Ma poi voi potreste chiedervi, ma perché questi qui hanno queste notizie? Eh, perché loro hanno i loro analisti che certe cose le sanno. Attenzione. E adesso voglio parlarvi di Sinner e poi ci salutiamo. Bene, lo sapete tutti, insomma, congratulazioni al nostro nazionale ancora di tennis che ha fatto la storia del tennis. Ormai siamo una realtà consolidata e forte nel tennis. Questo è anche dato dal fatto che c'è una nuova generazione di tennisti italiani che è veramente forte. Sinner è il nostro, diciamo, punta di diamante e poi ci sono tutti gli altri. Ma è una generazione di tennisti che non ha nulla a che vedere con quelli del passato. Proprio per una questione, il mio modo di vedere, fisico, di fisico, di genetica che si è sviluppata e di proprio attitudini a tennis. Insomma, Sinner domani farà di tutto per essere, anzi, si dice proprio che Sinner domani sarà a San Siro vedere il suo amato Milan contro il Borussia Dortmund. E Davide Calabria, il nostro grandissimo Davide Calabria, cosa ha risposto? Testuali parole, sicuramente sarà felice. E speriamo di renderlo ancora più felice, perché Davide Calabria ha dichiarato che hanno preparato benissimo la partita per sconfiggere il Borussia Dortmund. E vi voglio ricordare che ovviamente domani Giroud parte titolare in attacco. Uno spettacolo! Amici e amiche, forza Milan sempre, comunque, ovunque. Noi ci vediamo domani sera dopo la partita per il video reaction entro la mezzanotte. Questo sarà l'orario in cui sarà online caricato il video. Io vi mando un abbraccio a tutti. Ciao! Uno spettacolo!